Autostart che raccoglie i concorrenti e si appresta a lanciarli, problemi per Hermes Kauff, partiti con Veloce del Weissman, ha sbagliato anche Excelsior, prova ad andare davanti del Weissman, numero 5 Hermes Kauff, squalificato, numero 7 Excelsior, squalificato, sbaglia però Eternal Hope, avanza in largo Egon, che punta in avanti, mentre c'è stato un po' di trambusto, un paio di rotture anche abbastanza caotiche a questa fase, rimangono praticamente in quattro con Edelweissman al comando e con Fermi in seconda posizione, Guadori in terza, in quarta, Eleganza V cerca di ricongiungersi Everyday B, che ha trovato un paio di intralci sulla sua strada con la rottura contemporanea di Eletrapiz e di Eternal Hope. 29.2 per il quarto d'approccio da parte di Edelweissman, che viene al passaggio davanti alle tribune in vantaggio, seconda posizione per Egon Fermi che precede sempre Ecuador, poi Eleganza V, Everyday B si ricongiunge in coda Hermes Kauff. Il mezzo miglio iniziale è passato in un minuto e sette decimi da Antonio Grippi in Sanchi e la figlia di Vivi Duaisa S, che si porta a completare il primo chilometro al comando, un chilometro che è stato passato al ritmo che Antonio Grippi ha ritenuto più opportuno, uno 16.1 in mille metri iniziali, nessuno muove all'esterno, quando siamo a metà della retta opposta alle tribune, 500 metri e si finisce tutto, prova a muovere dall'ultima posizione Everyday B perché nessuno sposta, quando siamo a 400 dal palo, 14.7 di là, uno Weissman sempre in vantaggio, Egon Fermi nella sua scia, poi Ecuador, Everyday B che prova a rifare il gruppo ma è dura adesso perché Del Weissman ha innestato la marcia superiore, prova a fuggire da Egon Fermi che resta un paio di lunghezze e Del Weissman in fuga da Egon Fermi ed Ecuador, quindi Eleganza V e Del Weissman che fa quello che vuole, vince netta su Ecuador che è secondo, strabuona per la prossima Eleganza V, uno 13.9, il raguaglio cronometrico percorso di testa per Edel Weissman, Antonio Grippi, Michela Racca, tutto in famiglia, Roberto Mantia è il proprietario della figlia di Vivid Wise AS e Granger Griff che si impone nettamente nel finale, prende la testa e si rende intangibile, il giallo della giuria, la vittoria però sembra non essere in discussione, è Del Weissman, Antonio Grippi al secondo finisce Ecuador al terzo, Eleganza V, prima di confermare l'ordine d'arrivo. Grazie. 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 Grazie.